Questa ragazza è stata sfidata dai propri genitori in una sfida di disegno. Ognuno di loro infatti dovrà disegnare una porzione dello stesso disegno per poi decidere il vincitore fra i tre. La prima a cominciare è stata proprio la figlia e devo ammettere che il suo disegno mi piace tantissimo. L'albero di ciliegio dà quel tocco in più. Poi è il turno della madre, che ha stravolto il disegno e ha voluto disegnare una stagione diversa. A me infatti sembra più autunno o comunque come la luce di un tramonto. Tra l'altro io amo disegnare anche se ammetto di essere negato e sono curioso se anche a te piace disegnare, clicca mi piace. Voglio vedere in quanti amiamo disegnare. E anche lui decide di cambiare stagione e ha scelto l'inverno. Ma per me il migliore resta quello della figlia. E fammi sapere nei commenti qual è quello che preferisci tu. Vi leggo tutti.